Un logo rivisitato con le montagne al centro, colorate di rosa come quando al tramonto le dolomiti si tingono di sfumature magiche. I tre inserti verdi che simboleggiano le piante rappresentano invece le tre squadre che nel 2021 hanno concretizzato l'allora impensabile fusione. Attorno il nero antracite rispecchia la roccia caratteristica delle pareti verticali. Questo è il nuovo simbolo della dolomiti bellunesi progettato per essere versatile e garantire una forte riconoscibilità del brand in qualsiasi contesto. La presentazione è avvenuta al ristorante al borgo di Belluno con il club che lo ha svelato agli sponsor presenti e futuri della società presieduta da Paolo Decian. Siamo partiti in questa serata che è proprio il segnale che la dolomiti c'è, ha voglia di crescere, ha voglia di allargare i propri orizzonti e è nata anche l'idea appunto di rimodulare, di rifare il simbolo che dovrebbe diventare veramente il simbolo di quel motto che era partito tre anni fa una squadra, una provincia e un'unione di intenti. Eleganza e identità contraddistinguono anche le tre nuove maglie griffate Adidas, bianca, rosa e in tonalità scura, con l'idea di riflettere l'estetica del logo. A curare le innovazioni l'agenzia bellunese Play Mood del CEO Michele Savasta, in collaborazione con il designer Luca Fontana. La scelta di togliere il suffisso bellunesi dal nome, cosa che io ho personalmente sponsorizzato per due motivi principali, uno perché Dolomiti di per sé è un marchio più forte e poi perché riteniamo che non dobbiamo più soffrire del complesso di inferiorità, di specificare che le Dolomiti sono anche bellunesi e non condivise da altri, perché noi abbiamo la percentuale maggiore e quella più bella. Il club punta in alto come è stato sottolineato nel corso della serata. Oltre all'ambizione di salire prima o poi in Serie C, c'è da proseguire il potenziamento delle strutture, nonché rafforzare il patto dolomitico a livello giovanile con le altre società bellunesi. È difficile dire l'obiettivo che ci prefiggiamo sicuramente di far bene, sarebbe il top, fare meglio l'anno scorso perché voleva dire vincere il campionato, però secondo me l'importante è far crescere ancora il movimento come ce l'abbiamo adesso, far crescere i risultati e tutto il movimento deve crescere, la prima squadra deve dare l'esempio di attaccamento alla maglia veramente incredibile che serve per la crescita del movimento.